1. Non voglio perdere il mio amore per avere un bell'aspetto. 1. Non voglio perdere il mio amore per avere un bell'aspetto. Ti farò controllare dal dottore. Ti farò controllare dal dottore. Devi essere proprietario di una casa ogni mese. Devi essere proprietario di una casa ogni mese. Qual è il tuo tipo di esercizio preferito? Qual è il tuo tipo di esercizio preferito? Non potrebbe essere un pagliaccio allora? Non potrebbe essere un pagliaccio allora? Può controllare ora. Può controllare ora. Assedierà? Assedierà? Aumento. Aumento. Amministratore delegato dei nipoti. Amministratore delegato dei nipoti. Non avrebbe tremato. Non avrebbe tremato. Mia nipote è una babysitter? Mia nipote è una babysitter? Non dovresti entrare al tramonto. Non dovresti entrare al tramonto. Puoi consigliare un bel posto dove mangiare vicino al campus. Puoi consigliare un bel posto dove mangiare vicino al campus. Non saranno intervistatori mensili. Non saranno intervistatori mensili. Non avremo finito. Non avremo finito. Stava innaffiando le sue piante in giardino. Stava innaffiando le sue piante in giardino. Ricevono cibo ogni settimana. Ricevono cibo ogni settimana. A volte no. A volte no. Se fa paura. Non esco. Se fa paura. Non esco. Volerò ogni settimana. Volerò ogni settimana. Non puoi seguire ora. Non puoi seguire ora. Il pediatra non dovrebbe essere settimanale. Il pediatra non dovrebbe essere settimanale. È una persona laboriosa. È una persona laboriosa. Stavo solo cercando di avere un aspetto migliore. Stavo solo cercando di avere un aspetto migliore. Prima di tutto. Prima di tutto. Inizierà una guerra. inizierà una guerra. L'ufficiale di polizia ha detto che dovremmo lasciare l'area. L'ufficiale di polizia ha detto che dovremmo lasciare l'area. Non sei chiuso. Non sei chiuso. Sono fiducioso nel pomeriggio. Sono fiducioso nel pomeriggio. Non può scendere a terra. Non può scendere a terra. Non inizieranno la riunione fino all'arrivo del presidente. Non inizieranno la riunione fino all'arrivo del presidente. Digerire. Digerire. Vado all'ufficio postale. Vado all'ufficio postale. Non guarderesti più tardi alle tre del mattino. Non guarderesti più tardi alle tre del mattino. Non hai una pensione. Non hai una pensione. Puoi postare ogni settimana. Puoi postare ogni settimana. Quando raggiungeremo la spiaggia. Guideremo per quattro ore. Quando raggiungeremo la spiaggia. Guideremo per quattro ore. Continuerò a provare finché non ci riuscirò. Continuerò a provare finché non ci riuscirò. Non riesco davvero a credere di essere qui. Non riesco davvero a credere di essere qui. L'altra mano. L'altra mano. Devo. Devo. Non facciamo sartoria. Non facciamo sartoria. L'autobus è arrivato oggi presto. L'autobus è arrivato oggi presto. A volte incomparabile. A volte incomparabile. Potrebbe parlarci dei servizi di supporto dell'Università per gli studenti internazionali? Potrebbe parlarci dei servizi di supporto dell'Università per gli studenti internazionali? Per favore non incolpare te stesso. Per favore non incolpare te stesso. Traccia. Traccia. Non consiglia. Non consiglia. Non possono essere falegnami dopo una settimana? Non possono essere falegnami dopo una settimana? Finalizzerò. Finalizzerò. Avete delle suite? Avete delle suite? Non sono curioso. Sono solo curioso. Non sono curioso. Sono solo curioso. Ti amo. Ti amo. L'atteggiamento che sto cercando di provare è uno scatto. Quindi attribuirò l'atmosfera al sole di agosto. L'atteggiamento che sto cercando di provare è uno scatto. Quindi attribuirò l'atmosfera al sole di agosto. Quale giorno? Quale giorno? Posso invecchiare? Posso invecchiare? Assistente dell'insegnante. Assistente dell'insegnante. Allora possiamo concentrarci sulle tre del mattino. Allora possiamo concentrarci sulle tre del mattino. Erano in piedi ad ascoltare la radio. Erano in piedi ad ascoltare la radio. Suo nonno era un vigile del fuoco. Suo nonno era un vigile del fuoco. Dovrei ricordare più tardi. Dovrei ricordare più tardi. La sua sorellastra è un'oncologa. La sua sorellastra è un'oncologa. Puoi prestarmi dei soldi entro il giorno di paga? Puoi prestarmi dei soldi entro il giorno di paga? Raramente un estetista. Raramente un estetista. Si unirà presto. Si unirà presto. Tua sorella era un'avogatrice? Tua sorella era un'avogatrice? Non dovrai mai limitare. Non dovrai mai limitare. Dovresti essere un naturalista. Dovresti essere un naturalista. Mi piace passare il tempo con la mia famiglia e i miei amici. Mi piace passare il tempo con la mia famiglia e i miei amici. È un mese che corre ogni mattina. È un mese che corre ogni mattina. Cosa fermerò tra due secoli? Cosa fermerò tra due secoli? Sono nella stanza degli specchi. Sono nella stanza degli specchi. Può partire tutti i giorni. Può partire tutti i giorni. Non possono essere falegnami dopo una settimana? Non possono essere falegnami dopo una settimana? Mio nonno è un pugile? Mio nonno è un pugile? Cercheremo di fare del nostro meglio. Cercheremo di fare del nostro meglio. Non l'ho capita? Non l'ho capita? Lui è il barista tutti i giorni. Lui è il barista tutti i giorni. Fastidioso. Fastidioso. Non ricorderò dopo cinque notti? Non ricorderò dopo cinque notti? I nostri figli sono ambientalisti. I nostri figli sono ambientalisti. Ero fuori dal gruppo. Ero fuori dal gruppo. Userò la tecnologia per migliorare il mio inglese. Userò la tecnologia per migliorare il mio inglese. I suoi fratellastri erano autisti. I suoi fratellastri erano autisti. Possiamo organizzarci? Possiamo organizzarci? Il vento soffia tra gli alberi. Il vento soffia tra gli alberi. Una specie di cibo. Una specie di cibo. Forzeremo. Forzeremo. Tipo di funzioni lavorative. Tipo di funzioni lavorative. Posso promettere all'alba. Posso promettere all'alba. Non ci sono ancora informazioni su quando il progetto è stato completato. Non poteva averti visto. Non poteva averti visto. È venuto in Turchia. È venuto in Turchia. Merenda. Merenda. Un giorno fa può essere un idraulico. Un giorno fa può essere un idraulico. Non diventavano scrittori ogni anno. Non diventavano scrittori ogni anno. Tuo cognato faceva il lavavetri. Tuo cognato faceva il lavavetri. Nostro fratello è ortopedico? Nostro fratello è ortopedico? Introduce. Introduce. Vedrai domani. Vedrai domani. Devo pulire la stanza. Devo pulire la stanza. Dov'è il centro del mondo? Dov'è il centro del mondo? Suo nonno è senatore. Suo nonno è senatore. Mangiano all'imbrunire? Mangiano all'imbrunire? Non dovresti essere un pilota in tre giorni? Non dovresti essere un pilota in tre giorni? Valanga. Valanga. Tornerò a casa alle 20. Tornerò a casa alle 20. Vivrò in Giappone per i prossimi 5 anni. Vivrò in Giappone per i prossimi 5 anni. Ti ha ringraziato al tramonto? Ti ha ringraziato al tramonto? Ho rifiutato adesso? Ho rifiutato adesso? Non possono toccarsi a mezzogiorno? Non possono toccarsi a mezzogiorno? Ce l'hai. Ce l'hai. A volte non mente. A volte non mente. Posso parlare con un'infermiera? Per favore. Posso parlare con un'infermiera? Per favore. Il consumatore dovrebbe leggere l'etichetta prima di acquistare il prodotto. Il consumatore dovrebbe leggere l'etichetta prima di acquistare il prodotto. Non hai detto settimanale? Non hai detto settimanale? Aveva un bel viso. Aveva un bel viso. Indossava? Indossava? Vuoi parlare con me ora? Vuoi parlare con me ora? Tutte le banche dovrebbero avere ruoli e soluzioni a questo problema. Tutte le banche dovrebbero avere ruoli e soluzioni a questo problema. Adotteranno un bambino. Adotteranno un bambino. Le loro mogli erano consigliere. Le loro mogli erano consigliere. Chiudo sempre a chiave la porta prima di andare a letto. Chiudo sempre a chiave la porta prima di andare a letto? Controllore del traffico aereo tra due ore? Controllore del traffico aereo tra due ore? Possono crescere normalmente. Possono crescere normalmente. Abbiamo sempre rifiutato? Abbiamo sempre rifiutato? Non aveva mai visto Ankara prima. Non aveva mai visto Ankara prima. Ti avvicinerai. Ti avvicinerai. Vado in biblioteca a comprare un nuovo libro. Vado in biblioteca a comprare un nuovo libro. John ha acquistato gli articoli di cui sopra dal negozio. John ha acquistato gli articoli di cui sopra dal negozio. Non possiamo negare. Non possiamo negare. Faresti il muratore adesso? Faresti il muratore adesso? Sei già stato in questo paese? Sei già stato in questo paese? Mangi mai da asporto? Mangi mai da asporto? Qual è il tuo hobby preferito? Qual è il tuo hobby preferito? Fammi finire questo capitolo prima di andare. Fammi finire questo capitolo prima di andare. Non uccideremo? Non uccideremo? Ho cucinato la cena. Ho cucinato la cena. Mio zio è un netturbino? Mio zio è un netturbino? Non ridurrebbe di dieci anni? Non ridurrebbe di dieci anni? Non funziona normalmente. Non funziona normalmente. Alla fine del mese. Avrò completato il mio corso di certificazione. Alla fine del mese. Avrò completato il mio corso di certificazione. Non se ne accorgeranno a mezzogiorno. Non se ne accorgeranno a mezzogiorno. Non dovrebbe rompersi. Non dovrebbe rompersi. L'ho visto a scuola. L'ho visto a scuola. Stasera esci a cena con i tuoi amici. Stasera esci a cena con i tuoi amici. Hanno trascorso la giornata in spiaggia. Hanno trascorso la giornata in spiaggia. Non dovrebbe fare il cardiologo al tramonto? Non dovrebbe fare il cardiologo al tramonto? Farà freddo alle 15? Farà freddo alle 15? I suoi fratelli erano reclutatori? I suoi fratelli erano reclutatori? Ha potuto accettare l'offerta di lavoro? Ha potuto accettare l'offerta di lavoro? La nostra connessione wifi è veloce e gratuita. La nostra connessione wifi è veloce e gratuita. Sono tornato a casa alle 11 di ieri sera. Sono tornato a casa alle 11 di ieri sera. Non possono funzionare normalmente? Non possono funzionare normalmente? Ciao amici. Ciao amici. Lo sostituiscono ogni mese? Lo sostituiscono ogni mese? Stavo studiando quando mio padre è tornato a casa. Stavo studiando quando mio padre è tornato a casa. Non puoi vincere a mezzogiorno? Non puoi vincere a mezzogiorno? Sarò la persona più popolare del mondo. Sarò la persona più popolare del mondo. Dovrebbero essere poliziotti dopo tre secoli? Dovrebbero essere poliziotti dopo tre secoli? Burro di arachidi. Burro di arachidi. La sua matrigna è una commerciante? La sua matrigna è una commerciante? Mezzogiorno non può minacciare. Mezzogiorno non può minacciare. Stava pulendo la cucina mentre lavava i piatti. Stava pulendo la cucina mentre lavava i piatti. Sabato prossimo faranno volontariato al banco alimentare. Sabato prossimo faranno volontariato al banco alimentare. Se vuoi. Chiudiamo questo incontro. Se vuoi. Chiudiamo questo incontro. Come ricordi. Come ricordi. Fatemi sapere se avete domande. Fatemi sapere se avete domande. Può giudicare con quattro giorni di anticipo? Può giudicare con quattro giorni di anticipo? Ascolta la radio tutte le mattine. Ascolta la radio tutte le mattine. I tuoi cugini erano decoratori? I tuoi cugini erano decoratori? Qual è il tuo sport preferito? Qual è il tuo sport preferito? Suo nipote era un attore? Suo nipote era un attore? Mi dispiace non lo so. Mi dispiace non lo so. Non dovresti ignorare le tue responsabilità. Non dovresti ignorare le tue responsabilità. Per favore sdraiati e rilassati. Il dottore sarà da te a breve. Per favore sdraiati e rilassati. Il dottore sarà da te a breve. Innocuo. Innocuo. Ho rifiutato adesso. Ho rifiutato adesso. Vado al college. Vado al college. Non sempre può essere ignorato. Non sempre può essere ignorato. Il tuo amico è un ottico? Il tuo amico è un ottico? Sarebbe di supporto. Sarebbe di supporto. Non dovresti entrare al tramonto. Non dovresti entrare al tramonto. Possiamo riposarci un po' l'anno scorso? Possiamo riposarci un po' l'anno scorso? Non puoi essere una ballerina adesso? Non puoi essere una ballerina adesso? Non lo dimostro ogni settimana? Non lo dimostro ogni settimana? Dopo una settimana dovrebbero fare ginnastica. Dopo una settimana dovrebbero fare ginnastica. Non siamo stati inviati. Non siamo stati inviati. Prima di iniziare questo progetto. Dobbiamo pianificare la nostra strategia. Prima di iniziare questo progetto. Dobbiamo pianificare la nostra strategia. Empatia. Empatia. Dobbiamo sempre fare gli autisti? Dobbiamo sempre fare gli autisti? Non ho abbastanza tempo. Non ho abbastanza tempo. Mio padre è un soldato. Mio padre è un soldato. Ho tifato per la mia squadra durante la partita. Ho tifato per la mia squadra durante la partita. L'ex amministratore delegato accusato di frode. L'ex amministratore delegato accusato di frode. Stavo studiando quando sei tornato a casa. Stavo studiando quando sei tornato a casa. Suo fratello è un chimico. Suo fratello è un chimico. Lui crea? Lui crea? Non sono diventato fattorino per tre pomeriggi? Non sono diventato fattorino per tre pomeriggi? Non potevamo fare chimica due ore fa. Non potevamo fare chimica due ore fa. I nipoti si uniscono. I nipoti si uniscono. Non l'hai preso prima? Non l'hai preso prima? Non giochiamo? Non giochiamo? Non si sente mai. Non si sente mai. Non volavano. Non volavano. Il suo fratellastro è un lobbista. Il suo fratellastro è un lobbista. Non un ematologo all'imbrunire. Non un ematologo all'imbrunire. Mio figlio era un ecologista. Mio figlio era un ecologista. Impongo due settimane. Impongo due settimane. Distruggerebbero? Distruggerebbero? Sono un grande fan del film e non vedo l'ora di rivederlo. Sono un grande fan del film e non vedo l'ora di rivederlo. Ho appena ricevuto un messaggio da mia sorella. Ho appena ricevuto un messaggio da mia sorella. Alleverò conigli. Alleverò conigli. Tua zia è un astronoma. Tua zia è un astronoma. Vorresti venire con me. Vorresti venire con me. Nostra figlia era una fisiologa. Nostra figlia era una fisiologa. Non diventi una casalinga settimanale. Non diventi una casalinga settimanale. Il bordo della foresta era un ottimo posto per osservare gli uccelli. Non abbiamo lavorato l'anno scorso. Non abbiamo lavorato l'anno scorso. Bene. Impari dal tuo errore. Bene. Impari dal tuo errore. Il concerto inizierà stasera alle 20. Il concerto inizierà stasera alle 20. Devi sempre ispezionare? Devi sempre ispezionare? Il robot da cucina ha diversi accessori per diversi tipi di cottura. Il robot da cucina ha diversi accessori per diversi tipi di cottura. A volte non puoi sopravvivere. A volte non puoi sopravvivere. Che ore erano 15 minuti fa? Che ore erano 15 minuti fa? Possiamo sopravvivere? Possiamo sopravvivere? Ci sarà un fotografo? Ci sarà un fotografo? Abbiamo solo una camera da letto in casa nostra. Abbiamo solo una camera da letto in casa nostra. Penso che dovremmo gestirli in modo più efficiente e cercare di gestirli in modo più efficiente. Penso che dovremmo gestirli in modo più efficiente e cercare di gestirli in modo più efficiente. Ha cantato nel coro della scuola. Ha cantato nel coro della scuola. Va in chiesa la domenica. Va in chiesa la domenica. Tony. Saremo a casa tua tra cinque giorni. Tony. Saremo a casa tra cinque giorni. Dovrei ricordare più tardi. Dovrei ricordare più tardi. È un esperto di programmazione informatica. È un esperto di programmazione informatica. Non dovrebbe partire. Non dovrebbe partire. Non proveranno nel pomeriggio. Non proveranno nel pomeriggio. Il frigorifero fa uno strano rumore. Il frigorifero fa uno strano rumore. Di solito non è un caposquadra. Di solito non è un caposquadra. Non noto nulla di particolare al riguardo. Non noto nulla di particolare al riguardo. Non abbiamo spinto settimanalmente. Non abbiamo spinto settimanalmente. Compila per le prestazioni Excel. Compila per le prestazioni Excel. Ti fiderai. Ti fiderai. Non sono sicuro di poterlo fare. Non sono sicuro di poterlo fare. Nostro nipote era un analista. Nostro nipote era un analista. Dovremmo aggiungere. Dovremmo aggiungere. Attraente. Attraente. Il gatto è molto veloce. Il gatto è molto veloce. Ci saranno tre receptionist serali più tardi? Ci saranno tre receptionist serali più tardi? Non aiuta dopo un'ora? Non aiuta dopo un'ora? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.